Stalingrado, il politico di Vassili Grossman, uspide destra, Mostovskoi, l'internazionalismo. Nonna vieni presto, è arrivato quel vecchio tremendo. Così vera annuncia sua nonna, Alexandra Vladimirovna, l'arrivo a casa loro a Stalingrado, di Mostovskoi, un vecchio amico di famiglia. Mikhail Sidorovich Mostovskoi è un vecchio minuto, calvo, dai piccoli occhi vivi. Cammina svelto, non gli si danno più di 50 anni, ma la sua età è giudicata molto avanzata, secondo l'opinione del secolo scorso. Quando è già nel lager nazista in vita e destino, polemizza con Cernikov, Coetaneo e Menshevico, ma sente un qualche legame con lui, perché con lui, non con altri, condivide ricordi comuni, storie del primo congresso, nomi che lasciano indifferenti tutti gli altri, il confronto tra Marx e Bakunin, la polemica tra Lenin e Plekhanov su Iskra, e così via. Si rievocano dunque fatti che risalgono agli ultimi decenni del XIX secolo e discussioni avvenute nei primissimi anni del XX. Ecco perché si può supporre che Mostovskoi sia più o meno Coetaneo di Lenin e nel 42 abbia più di 70 anni. La vita di Mostovskoi è narrata per una giusta causa, proprio all'inizio del racconto. Fin dall'inizio la sua è una vita movimentata, votata alla rivoluzione. Sotto lo zar patisce la sua parte di prigione e di Siberia, d'esilio a Londra e a Ginevra, la sua parte di privazioni, di persecuzioni, di clandestinità. Proprio mentre lavora per la rivoluzione da clandestino, a Nizhny Novgorod, incontra Alexandra Vladimirovna e suo marito, l'ingegner Shapochnikov, un famoso ingegnere. I due lo ospitano per un mese a casa loro e di lì nasce la loro amicizia. Poi, finalmente, la rivoluzione. E gli anni immediatamente successivi, sono anni di fatica estenuante per Mostovskoi per costruire la nuova Repubblica Sovietica. Mostovskoi è in prima linea, è impegnato nel commissariato all'istruzione pubblica, organizza corsi di istruzione politica nell'esercito, contribuisce all'organizzazione teorica e pratica dei piani quinquennali, al programma di elettrificazione, lavora al Centro Ricerche Scientifiche dello Stato. È dunque uno degli uomini che hanno fondato il partito bolshevico e che hanno edificato la nuova Repubblica dei Soviet. Non è un militante qualsiasi, è membro del gruppo dirigente, ha avuto incarichi di grande responsabilità. Ma negli anni, e certamente negli anni trenta, Mostovskoi è via via emarginato. Non è oggetto di accuse, non è perseguitato, non è processato, non è imprigionato o fucilato, ma certo non è più un dirigente di primo piano. Si ritira a Leningrado, vive appartato, insegnando economia politica, scrive articoli per un'enciclopedia e un dizionario filosofico. Non frequenta quasi nessuno, salvo qualche professore di economia e di filosofia che di tanto in tanto lo viene a consultare, malgrado il suo carattere intollerante e faticoso. La verità è che Mostovskoi non condivide il nuovo corso del partito. Ritiene sbagliato il potere assoluto di Stalin. È angustiato dai processi sanguinosi contro l'opposizione. È sgomento di fronte alle cose tremende accadute prima della guerra. L'esecuzione di Bakunin, che conosceva bene e per il quale nutriva un affetto profondo, era stata una sofferenza per lui. Vorrebbe avere la possibilità di incontrare ancora Lunacharsky, con lui si capivano sempre al volo. Anatoly Vassilievich Lunacharsky fu infatti figura eminente del gruppo dirigente bolshevico, commissario del popolo per l'istruzione, famoso per il suo spirito critico e per il conflitto con Stalin, che non lo fece arrestare, ma lo oggi no, mandandolo in Spagna come ambasciatore. Mikhail Sidorovich è un bolshevico vicino a Lunacharsky e come i bolshevichi della sua generazione, parla a diverse lingue europee e alla cultura europea è sensibile. Anche nell'episodio della festa a casa di Aleksandra Vladimirovna, all'inizio proprio del racconto, per una giusta causa, proprio al capitolo 8. In questo episodio torna il tema delle lingue insieme alla formazione europea ed umanitaria di molti rivoluzionari russi, come Mostovskoy. Mostovskoy è figlio di un diacono e loda la biblioteca di casa Shapochnikov, perché gli ricorda la sua non solo certo per il mobile, ma soprattutto per i libri che contiene. Il capitale, le opere di Lenin, Hegel in tedesco e per i ritratti di due autori del XIX secolo. Nekrasov, il poeta della sofferenza dei contadini e delle donne, Dobroliubov, il critico letterario che assegna alla letteratura un'eminente funzione sociale. E poi Pushkin, Tolstoi, del resto la sua amica Aleksandra, come lui, conosce francese e inglese dall'infanzia e il tedesco per averlo imparato a Berne a Zurigo da emigrata con suo marito. Verso gli sviluppi della politica di partito, Mostovskoy coltiva in sé il dubbio che il suo silenzio degli ultimi anni sia stato una forma di viltà. Ma combatte questo pensiero. La sua convinzione profonda è di non poter, anzi di non dover, osteggiare l'azione del partito. Pena l'intralcio all'opera stessa di Lenin, un'opera storica grandiosa a cui ha dedicato tutta la sua vita. Le trasformazioni della Repubblica Sovietica, ne è convinto, sono eclatanti. Per una giusta causa, poche pagine dopo quella della festa a casa Shapochnikov, egli ricorda che sono state spazzate via intere classi sociali e ve ne sono di nuove. Antichi mestieri sono stati dimenticati e ve ne sono di nuovi. Sorti in così gran numero e in così breve tempo da lasciare ammirati. Pianificatori di fabbrica o di villaggio, contadino capo di cultura, apicoltore cercatore, allevatore, giardiniere, meccanico di colcoz, radiotelegrafista, trattorista, elettricista. Nuove industrie hanno fatto nascere nuove professioni. Piloti, autisti, ingegneri, chimici, elettrochimici, specialisti dell'alta tensione, delle alte frequenze. Geologi. Sono spariti i luoghi di ritrovo e di educazione di un tempo. Sparite le proprietà dei monasteri, dei signori, le ville, le borse, le classi sfruttatrici e i loro servi. E tutti quelli che sembravano occupare una posizione intoccabile sono stati toccati e annientati dalla rivoluzione. Sparita tutta la pesante macchina burocratica del tempo degli zar. Cadute in disuso le parole di quel mondo. In un lasso di tempo brevissimo la vita materiale ha fatto un balzo in avanti saltando un secolo. Tutto ciò che sembrava immutabile è cambiato. La nuova Russia sovietica ha mutato la sua agricoltura, le sue strade, i letti dei suoi fiumi. Per questo, benché difficili, i rapporti di Mostovskoy con il partito non si interrompono. Quando, dopo la partenza da Leningrado assediata, si ritrova a Stalingrado, Mikhail Sidorovic desidera ritrovare subito i compagni operai della sua città e viene a sapere da Andreev, un operaio che incontra a casa di Aleksandra Vladimirovna, che gli sfollati da Leningrado si trovano nella fabbrica Ottobre Rosso. Allora chiama un impiegato del comitato regionale del partito che conosce, un certo Yuravlyov, perché nessuno è senza nome in questo romanzo. Ed è questo Yuravlyov che telefona alla struttura di fabbrica e poi al comitato di zona per annunciare la visita di Mostovskoy. E infine gli mette a disposizione anche un'automobile. Ma Mostovskoy si mostra totalmente insensibile ai privilegi che la sua appartenenza al partito comporta. Rimanda indietro l'autista un'ora e mezza dopo e non partecipa al rinfresco in suo onore. Il suo scopo è andare a parlare con gli operai che si commuovono quando il vecchio bolshevico racconta loro l'ultimo incontro con Lenin già malato. Finita la sua conferenza se ne va a raggiungere Andreev a casa sua attorniato dagli operai che lo festeggiano. È un oratore dalla voce potente, sa parlare in modo semplice e chiaro e sa come affascinare chi lo ascolta. Anche in casa di Andreev sa intuire cosa dire alla moglie diffidente dell'operaio per conquistarne la fiducia, mentre aspettano che rincasi il marito. È un vecchio rivoluzionario Mikhail Sidorovich Mostovskoy, non un funzionario di partito. La guerra lo sorprende a Leningrado. La città è assediata. Egli rievoca le montagne di neve e di ghiaccio nelle strade, il silenzio di morte, la confusione portatrice di morte, il pezzetto di pane sulla tavola, le slitte e sulle slitte acqua e legna e cadaveri coperti da un lenzuolo bianco, i sentieri gelati lungo la neva, i muri delle case ricoperti di brina, il cielo grigio spazzato dai proiettori, i riflessi rosa di un incendio sui vetri nel cuore della notte, l'urlo delle sirene, i sacchi di sabbia intorno al monumento di Pietro il Grande. E poi la sofferenza e l'egoismo paziente ostinato del popolo là dove tutto ricorda i giorni gloriosi della rivoluzione. La stazione di Finlandia, la bellezza deserta del campo di Marte, lo Smolni. Evacuato a Stalingrado, Mostovskoy alloggia da Agrippina Petrovna. Scrive, ma spesso all'alba sulla riva del Volga, seduto sotto una falesia, una falesia argillosa su pietre fredde, guarda sorgere la luce, le nubi notturne di color cenere che si gonfiano del tiepido rosa della vita, l'acqua nera che si rischiara nella luce obliqua, le ondine minuscole che si frangono timide sulla spiaggia, gli innumerevoli granelli di sabbia che assorbono l'acqua scintillanti. È un uomo sensibile, Mikhail Sidorovic Mostovskoy, ma l'emozione della sua vita è la rivoluzione. Malgrado la sua età, infatti, Mostovskoy matura la decisione di non volersi allontanare dal fronte un'altra volta. Anche a Stalingrado il pericolo è imminente, ma, pensa, se la città dovesse cadere potrebbe di nuovo essere utile alla causa, alla del lavoro clandestino, dice, ne sa molto di più di tutti i giovani funzionari. A Stalingrado riprende a frequentare Alexandra Vladimirovna, che lo invita a casa sua in via Gogol per la festa. È l'estate 1942. La famiglia di Alexandra si trova riunita proprio dagli eventi della guerra. Alexandra Vladimirovna si vergogna un po' di dare una festa mentre c'è la guerra, ma Mostovskoy la incoraggia. Si siede e carica la pipa. Alexandra gli regala una scatola di preziosi fiammiferi. La conversazione a tavola si svolge sulla guerra. Alexandra non può credere che i nazisti siano così vicini a Stalingrado che uno ad uno i presidi militari cadano. Tutti sono preoccupati per la situazione di pericolo che ormai tocca la città. Come mai la difesa non riesce a fermare i nemici? E Mostovskoy parla. Quando parla lui tutti tacciono, perché la sua reputazione è davvero grande, la sua autorevolezza è davvero grande. Egli ricorda il mito del gigante Anteo, della sua copia, Antianteo. Mentre il primo rinvigorisce ad ogni passo sulla terra, il secondo perde le sue forze. Inutile dire che il gigante Anteo rappresenta l'Unione Sovietica e l'Antianteo la Germania, ma è significativo che sia proprio Mostovskoy a paragonare i due totalitarismi, sia pure come uno rovescio dell'altro. Il tema ha grande sviluppo in molti passi di vita e destino e culmina nell'icastico incontro tra Mostovskoy e il direttore dell'Ager, Liss. Mostovskoy crede nella vittoria contro i nazisti perché sa che la potenza sovietica supera di gran lunga quella della Russia di un tempo. Il fronte è vastissimo, ma proprio per questo il nemico consuma tutte le sue risorse, mentre tutta la Russia resiste e produce, protetta nel suo immenso territorio a est. Hitler ha promesso una guerra lampo di sei settimane e invece ne sono già passate 56. La fede di Mostovskoy è incrollabile. Come non ha ceduto ai dubbi sul partito, così non cede neppure di fronte alla realtà dell'invasione. Eppure questa vittoria, quando anche verrà, sarà costata un oceano di sangue e l'osservazione di Andreev, che è lasciata a casa Shapochnikov con Mostovskoy, non può fare a meno di dire le sue preoccupazioni e il suo dolore. Ha un figlio al fronte. Ma Mikhail Sidorovich ribadisce la sua convinzione profonda che i tedeschi non sono un'unità monolitica. Ci sono anche gli operai tedeschi. Se li ricorda bene lui i fratelli comunisti di tutta Europa e del Giappone, neri e hindù, cinesi, amici della giovane Repubblica dei Soviet, e Lenin che li arringa. Presto sarà una realtà la Repubblica Sovietica internazionale, dice. Il vecchio bolshevico è internazionalista. Il tema riemerge nel dialogo col professor Gagarov, che va a far visita a Mikhail Sidorovich a Stalingrado. Gagarov osserva che, parlando della guerra, Mostovskoy attribuisce l'aggressione della Russia ai fascisti, non li chiama mai tedeschi. Eppure, dice Gagarov, alla fine sono la stessa cosa. Mostovskoy riafferma la sua visione internazionalista e di classe. Durante l'ultima guerra, dice, noi bolshevichi distinguevamo tra l'imperialismo di Guglielmo, il nazionalismo prussiano e il proletariato tedesco rivoluzionario. Quasi litigano, come nella natura intollerante di Mostovskoy, cui fremono le narici, si adombra e risponde in tono risentito. Ma Gagarov lo invita a non arrabbiarsi. Gagarov è uno storico di eccellente memoria, conosce piccoli aneddoti, dettagli della storia russa. Potrebbe elencare tutti i personaggi presenti al funerale di Pietro il Grande, o ricordare giorno e ora dell'arrivo di Chadaev, la sua zia, e saprebbe dire anche da quanti cavalli era trainata la sua carrozza. Conosce Mostovskoy da molti anni, da prima della rivoluzione, si sono incontrati a Nizhny Novgorod, dove Gagarov frequentava gli archivi della città per i suoi studi sulla regione e per gli articoli che scriveva sui giornali liberali. Da qualche anno non lavora più. La novità è che sta per partire per Kuybyshev. Il governo lo ha richiamato in servizio e gli ha affidato una consulenza per una ricerca sui condottieri russi, sui generali gloriosi del passato. Proprio come il principe Sharogorodski, che in vita e destino, scrive anche lui su commissione del Sovinform Bureau, degli articoli sulle glorie passate. Il principe dice che il governo non ha saputo far meglio che ripescare il ciarpame del passato per motivare gli animi alla guerra patriottica, anzi alla grande guerra patriottica. Il tema dell'internazionalismo di Mostovskoy si ripresenta nei primissimi capitoli di vita e destino, quando già rinchiuso in Lager deve mettere in pratica la propria conoscenza delle lingue per la prima volta, notazione polemica, dopo il secondo congresso dell'internazionale comunista. È una notazione polemica contro l'assunzione del nazionalismo che a snatura la concezione comunista del mondo. E l'ideologia nazionalista conduce al Lager come destino identico per uomini di 56 nazionalità diverse, storie e mestieri diversi. Più avanti, quando Hershov riporta le ultime notizie sentite da un prigioniero americano alla radio sulla battaglia di Stalingrado e sulla liquidazione del Comintern, la prima notizia interessa a tutti, la seconda solo Mostovskoy. Il commento del commissario di brigata Osipov, un tempo istruttore politico delle truppe, è che l'internazionalismo ha danneggiato la Russia e Mostovskoy lo irride. Certo, Dio, zar e patria, no? Proprio l'internazionalismo è la causa prima della grande simpatia che Mostovskoy prova per il maggiore Hershov. Ed è la causa prima del suo dissenso dai due uomini di partito, compagni anche loro di prigionia, e cioè il commissario di brigata Osipov e il generale Gutz. Hershov è un giovane soldato pieno di energia e determinazione, molto popolare tra i prigionieri. Tutti lo rispettano, tranne il commissario di brigata Osipov, acrimonioso, perché all'ingresso in lager Hershov si distingue per fierezza, tenendo testa a case capobaracca, già scassinatore in Hamburgo, è molto violento. Di fronte a case, invece, il commissario Osipov ha paura. Sono due reazioni istintive diverse alla stessa sollecitazione emotiva, non c'è niente di male, ma Osipov si vergogna di sé. E la sua antipatia per Hershov ha origine qui. La gelosia personale si traveste da argomentazione politica e finisce con l'avere la preminenza su tutto, anche sulla lotta ai nazisti. Hershov confida a Mostovskoy il suo piano ambizioso di organizzazione della resistenza attraverso un'associazione combattente di prigionieri di guerra di tutte le nazionalità. Nella fabbrica militare dove lavora ha buoni rapporti con alcuni operai. Il suo piano è di contattare decine di lager con lo scopo dell'insurrezione generale per costruire un'unica libera Europa. Inutile dire che Mostovskoy aderisce entusiasta. Il suo compito è portare anche Osipov dalla loro parte e scrivere un volantino da distribuire clandestinamente per far sapere a tutti che Stalingrado resiste. Hershov ha qualcosa in comune con Cernikov, il menschevico esiliato dalla Russia, ma arrestato a Parigi dai tedeschi e finito in lager. Quando sente Vlasov, il generale traditore, passato al nemico che racconta quanto di male hanno fatto i comunisti, sa che i fatti sono veri, ma sulla sua bocca sono menzogna. Hershov ha sofferto nel 30 la deportazione da Voronezh in condizioni indicibili della sua famiglia di Kulaki. Alla scuola militare proprio per la sua origine familiare è stato continuamente discriminato, nonostante gli ottimi risultati. Dall'esercito è stato cacciato in seguito a una denuncia per essere andato durante una licenza a vedere i suoi nel nord degli Urali, dove li ha trovati decimati. Quando scoppia la guerra, Hershov viene arvolato e si distingue nella battaglia di Roslav. Ma Hershov ha qualcosa in comune anche con gli uomini di partito, con Osipov. È un organizzatore. Poiché vuole creare una rete clandestina in tutti i lager della Germania, pensa alla necessità di un codice segreto per comunicare. Pensa di attrarre alla propria rete qualcuno che lavora in amministrazione per decidere, attraverso le liste di trasferimento, quali uomini distribuire nei vari lager. Non trascura il problema delle armi e ritiene di dover individuare degli artiglieri che al momento opportuno possano usare la contraerea dei lager come armi offensive per la conquista armata dei lager stessi. Studia le persone che lo circondano, ne vede i punti di forza e le debolezze. A differenza di Osipov, però, Hershov, benché inflessibile nella determinazione, ha un carattere mite e allegro. Mostovskoy è entusiasta di lui, lo definisce un portento. Lo chiama guida delle menti, vorrebbe che Osipov e il generale Gutz lo aiutassero nel suo piano. Ma Gutz e Osipov non amano proprio ciò che invece entusiasma il vecchio Mostovskoy. L'idea di associare alla resistenza tutti, senza distinzione di nazionalità. Osipov è cristallino nella sua ostilità. Non importa che Hershov si proponga lo stesso fine di resistenza dell'organizzazione di partito, importa il fatto che egli non ne fa parte perché l'organizzazione non lo vuole. E Osipov, per portare Mostovskoy dalla sua, aggiunge che in lager è presente un compagno mandato da Mosca, un certo Kotikov, le cui decisioni, in circostanze eccezionali, sono ordini di Stalin. L'appartenenza al partito gioca ancora la sua grande influenza su Mostovskoy. Tra i suoi sentimenti prevale sempre quello della fedeltà al partito, superando ogni dubbio. Al termine del colloquio con Osipov, che lo abbraccia e lo bacia come un padre, si sente di nuovo tranquillo. Il mondo, torna a essere chiaro e semplice, diviso tra buoni e cattivi, come quando era giovane. E tuttavia la sottomissione di Mostovskoy, che non vuole e soprattutto non può disconoscere il suo partito, è un atto di rimozione che ha delle conseguenze sul suo stato d'animo. Talvolta si sente strano agli uomini di partito, avverte un inquietante senso di noia anche per le sue convinzioni profonde. Mentre quando era in prigione da giovane sentiva come proprie le idee degli amici e giudicava inaccettabili le opinioni degli avversari politici, ora, in un lager tedesco, gli succede di provare interesse e simpatia quasi, per un vecchio menscevico come Chernekov e per un prigioniero russo di nome iconico, un idiota, un povero pazzo, pensa Mikhail Sidorovich. Ma quando non lo vede da un po' ne sente la mancanza. Tuttavia, proprio l'essere bolscevico e compagno di Lenin rende Mikhail Sidorovich figura molto popolare in lager. Riprova che in Europa la rivoluzione russa è già leggenda, leggenda epica, da imitare o da temere a seconda dei casi. Inutile dire che Mostovskoy difende con calore la rivoluzione, soprattutto quando a incalzarlo è un avversario politico come il menscevico Chernekov. Gli scrittori trovano sempre parole commoventi per due vecchi amici d'infanzia che si ritrovano. Ma perché disdegnano l'incontro di chi da giovane è stato nemico, di due vecchi cani grigi e bastonati come noi? Dice il menscevico. E per un attimo Mostovskoy si sente vicino a lui per i ricordi comuni. Ma è un momento. La vena intollerante del bolscevico è sempre viva, la discussione con Chernekov è sempre astiosa, specie sui fatti del 37, sulla miseria delle campagne, sul sistema dei kolkots che affamano i contadini, su Stalin che è in realtà la logica conseguenza di Lenin. Il centro della polemica è la democrazia. A Mostovskoy che rivendica la discendenza dei bolscevichi da tutti i rivoluzionari russi, Chernekov fa notare che casomai i bolscevichi hanno ucciso la libertà russa, vissuta meno di sei mesi, in un paese schiavo da mille anni. A Mostovskoy che sottolinea gli enormi progressi compiuti, le fabbriche prese ai capitalisti, la terra tolta ai signori, l'alfabetizzazione generale, la nascita dell'industria pesante, il credito e l'ammirazione di cui i bolscevichi godono in tutto il mondo, Chernekov chiede conto di altri fatti. La conquista della Polonia, delle tre repubbliche baltiche, l'occupazione della Finlandia nel 1939, d'accordo con Hitler, le rivolte contadine represse in Asia minore e a Kronstadt, la lezione appresa da Strelnikov, il crudele procuratore militare dello zar Alessandro III a Odessa che scriveva confessioni false al posto dei rivoluzionari che aveva picchiato fin quasi a ucciderli. La discussione non trova e non può trovare una composizione. Tuttavia accanto alla rabbia di Mostovskoy c'è anche il nervosismo di Chernekov. Chernekov si rende conto che Stalingrado significa per tutti l'idea che resistere ai nazisti è possibile e che è possibile sconfiggerli. Ecco perché cerca di convincere un soldato prigioniero Pavlyukov a non arruolarsi volontario con gli uomini di Vlasov, il generale tradittore. Pavlyukov è esasperato perché dice quelli del partito, una congrega che decide su tutto, gli vogliono togliere il buon lavoro che ha all'infermeria e lo vogliono rimandare agli scavi. La sua rabbia di oggi si fonda anche sulla rabbia di ieri per le continue interferenze del partito sulla sua libertà individuale. Tuttavia Chernekov cerca di dissuaderlo dal tradire la patria per la minestra calda e il cappotto, per l'insofferenza verso i comunisti. Il giudizio di Chernekov, fortemente critico verso la nuova Russia, rimane sospeso. Non è ancora il tempo di tirare le somme, dice. Non è così che si tirano. Non va bene per se stessi, non va bene per la propria terra. Chernekov, il menscevico esiliato da vent'anni, dal viso pallido e spaventoso, privo di un occhio e dall'orbita rossa e vuota, finito in lager perché, impiegato in una banca a Parigi, aveva incitato i colleghi a sabotare i tedeschi. Chernekov ama la Russia, di un amore spogliato di ogni eco retorica. È l'amore per la propria vita, per le persone care, una in particolare. Ma le figure più inquietanti per Mostovskoy in lager sono due, Ikonikov e Lys. L'uno compagno di prigionia e russo come lui, l'altro nazista, uomo di Eichmann e direttore del lager. Ikonikov viene da una famiglia di sacerdoti, fin dai tempi di Pietro il Grande, ma ha una formazione laica. Appassionato, seguace del Tolstoismo, vive molteplici esperienze come insegnante nelle campagne, come mozzo in mare, in India, in Giappone e in Australia. Dopo la rivoluzione torna in Russia ed entra in una comune contadina. Conosce la collettivizzazione forzata delle campagne e la tragedia della fame di tanti poveri contadini. Questi fatti gli creano un dolore tale da esasperarlo e farlo credere folle. L'invasione tedesca e lo sterminio degli ebrei peggiorano le sue sofferenze. Il pensiero di Ikonikov è critica radicale ad ogni scienza della società, ad ogni scienza della politica, di ogni epoca storica. Tutte le dottrine elaborate dal genere umano, inclusa ogni religione, si sono rivelate una tragedia per l'umanità stessa. Egli nega e rinnega ogni ideologia. Il 5 settembre dell'anno scorso, dice, ho visto giustiziare 20.000 ebrei, donne, vecchi e bambini. Quel giorno ho capito che Dio non può aver permesso nulla di simile e mi è parso evidente che non esiste. In un mondo di follie e omicide, di insensata crudeltà, di tutto contro tutto, l'unica speranza è nella coscienza che esiste una bontà piccola e quotidiana, priva di testimoni e di teorie che la descrivono. Un granello radioattivo disperso nell'esistenza umana che tuttavia resiste. Che nessun gran male annulla e che da solo costituisce la vera storia dell'esistenza umana. Non ci credo io nel bene, io credo nella bontà, dice Ikonikov memorabilmente. Niente di più lontano dalla formazione e dalle convinzioni di Mostovskoi. Il Menshevico almeno è un avversario politico. Ikonikov per Mostovskoi è semplicemente un insensato, un folle, un babbeo. Uno che i tedeschi non dovrebbero temere, uno che odia i sovietici e dunque il Lager non ci dovrebbe stare come Cernikov del resto, secondo lo sprezzante giudizio di Mostovskoi. E tuttavia quando discute con Ikonikov, Mikhail Sidorovich sente che la sua logica non lo aiuta, simile a un coltello che stupidamente cerca di infilzare una medusa, perché il pensiero di Ikonikov è il negativo, l'altra faccia di ogni sistema filosofico e dunque nessuno strumento elaborato nell'ambito di qualsiasi sistema teoretico può discuterlo. Ma è questa carica di negatività così radicale che genera in Mostovskoi, benché spesso spazientito, una qualche forma di simpatia per Ikonikov. Giunge anche ad ammirarlo, benché lo ritenga pazzo, per il suo eroico coraggio quando manifesta il proposito di rifiutarsi di lavorare ancora agli sterri della palude, che in realtà servono a costruire le camere a gas, perché non può accettare l'idea di essere schiavo e di essere la causa della morte di tanti altri uomini. E Mostovskoi si rammarica infine per la morte di Ikonikov, ucciso proprio per il suo rifiuto di continuare a lavorare. Ed è Ikonikov che fornisce alla Gestapo l'occasione di agire contro Mostovskoi. Un giorno gli lascia certi suoi appunti che sono scoperti durante una perquisizione in baracca. Ma Ikonikov è solo la causa occasionale, perché responsabile dell'arresto e poi della morte di Mikhail Sidorovich, è un delatore di cui non si conosce e non si conoscerà il nome e che si nasconde tra i suoi stessi compagni di partito. La Gestapo ha un interesse speciale per Mostovskoi fin dalla cattura a Stalingrado. La sua posizione si distingue da quella di tutti gli altri prigionieri e anche da quella dei lavoratori coatti, perché viaggia sotto scorta nel piccolo scompartimento di servizio di un vagone di seconda classe, non in un carro merci, e non è destinato ad uno dei lager dell'est. Il treno su cui viaggia entra infatti nel governatorato generale di Polonia, supera Poznan e Berlino e dunque va verso Ovest. Arriva con ogni probabilità a Dachau perché prima della guerra quello era un lager per prigionieri politici. Ikonikov dice inoltre che stanno costruendo la Camera Gas e a Dachau la Camera Gas fu costruita contestualmente ad un più ampio crematorio proprio nel 1942. Infine la voce narrante nota che alla fine della guerra nell'archivio della Gestapo di Monaco si rinvennero materiali di inchiesta relativi a un'organizzazione clandestina costituita sì in uno dei lager della Germania, della Germania occidentale e Dachau è vicino a Monaco. Da ultimo si deve anche ricordare che il direttore del lager, Liss, riceve nel lager stesso la visita di Eichmann che lo raggiunge in automobile da Monaco, dunque sul luogo dove Mostovskoy si trova il testo è piuttosto chiaro. Un'incongruenza si nota invece sui tempi della vicenda del vecchio bolshevico nel lager. Mostovskoy è arrestato a Stalingrado alla fine di agosto, anzi dice il testo, cinque giorni dopo l'incendio, seconda parte di Per una giusta causa capitolo 44. Dopo l'incendio è scatenato dal bombardamento della città, dunque nella notte fra il 28 e il 29 agosto Mostovskoy viene arrestato. Dunque si può presumere che giunga nel lager ai primi di settembre. Li è assegnato a un blocco speciale. Gli altri detenuti con lui lavorano, ma non Mikhail Sidorovich. Perché mai la Gestapo, che nella realtà storica ebbe un comportamento particolarmente crudele con i prigionieri sovietici e particolarmente con i membri del partito nell'esercito, come i commissari e gli istruttori politici, perché in questo romanzo la Gestapo si interessa tanto a Mostovskoy? È un quesito che ha un'unica risposta interna al testo stesso del romanzo. Lo strano stato di Mostovskoy è premessa narrativa indispensabile per il celebre incontro col nazista Liss, l'SS che dirige il lager. Questi sta scrivendo un saggio, l'ideologia del nemico i suoi leader, e il colloquio con Mostovskoy gli serve per verificare certe sue ipotesi. In altre parole, la condizione anomala di Mostovskoy nel lager è finalizzata al confronto col suo doppio nazista. Una notte. Mostovskoy è condotto negli uffici della direzione. Mikhail Sidorovich è convinto di dover affrontare un interrogatorio, magari anche molto brutale, per via delle carte di Konnikov trovate sotto il suo materasso. È dunque molto stupito di essere condotto in un ufficio, anche piuttosto elegante, dove poco dopo si presenta il direttore Liss. Persona civile nell'aspetto, occhi grigio scuro, naso adunco, fronte spaziosa. È un'espressione di operoso ascettismo. Quando avviene questo fatto? In ottobre e novembre certamente, perché Liss lo ricorda tempo dopo, mentre in auto lascia il lager per l'ispezione alle ditte fornitrici di gas e di crematori. Capitolo 29 della seconda parte di Vita e destino. E perché il narratore dice che il giorno dell'ispezione alle camere a gas pioveva la pioggia fredda e torrenziale di novembre? Ora, Mostovskoy, prima del colloquio con Liss, sta in una cella di isolamento nell'infermeria per più di settimane. E condotto nel bagno dell'infermeria, riceve da Hershov la richiesta di scrivere un volantino su Stalingrado che resiste valorosamente. Anche questo dato conferma che siamo in ottobre e novembre 42. Allora, perché lo stesso Hershov, prima che Mostovskoy, sia condotto nella cella di isolamento? Dunque in ottobre. Perché gli dice che un prigioniero americano ha sentito alla radio la notizia dell'eroica resistenza a Stalingrado e che da Mosca è giunta una qualche comunicazione sulla liquidazione del Comintern? È abbastanza strano perché questo fatto storico avviene solo nella primavera del 43. Si tratta di una svista o è semplicemente un cenno non tanto allo scioglimento vero e proprio quanto alle intenzioni di scioglimento di quell'organismo internazionalista? In ogni caso, la notizia della liquidazione del Comintern è funzionale alla contrapposizione tra l'internazionalismo di Mostovskoy e le scelte nazionalistiche del partito, così come l'eccentrica posizione del vecchio bolshevico nel lager tedesco è funzionale al mitico colloquio con Liss. Questo Liss fin dall'inizio mostra di non avere alcun interesse per gli appunti di Konikov, che giudica un nemico del popolo da eliminare. Liss dichiara invece di desiderare di scambiare delle idee col vecchio bolshevico, perché è persuaso che tra noi e voi ci sia molto in comune. Anzi Liss, che è un tedesco di riga, si sforza di parlare in russo e si accerta continuamente che Mostovskoy lo intenda bene. Mi capisce? Mi segue? Ripete spesso. L'unica volta in cui Liss torna al tedesco è quando mostra a Mostovskoy proprio le carte di Konikov, che disprezza in massimo grado e dice «ho capito subito che non le aveva scritte lei certe idiozie. Io e lei abborriamo entrambi quanto è scritto qui sopra. Io e lei siamo da una parte e dall'altra ci sono queste idiozie». Questo dialogo è giustamente famoso per l'enunciazione della specularità tra nazisti e bolshevichi e per la disintegrazione della mitologia dei comunisti, nemici vincitori di ogni fascismo. Qui l'SS e l'IS enumera fatti che dimostrano l'esistenza di tratti molto simili tra i due regimi, tedesco e sovietico. Nel testo non compaiono mai i termini nazista, bolshevico, comunista. Compaiono piuttosto i nomi dei due dittatori, anzi dei tre, Hitler, Stalin e Lenin e con altissima frequenza i pronomi noi, voi, nostro, vostro, io, lei. Perché l'S si rivolge a Mostovskoi con un rispettoso lei. L'S anzitutto facendo alla comune origine filosofica «Il mondo non è forse pura volontà anche per voi» e allude alla distanza di Stalin e anche di Lenin dal marxismo ottocentesco, evoluzionista e positivista. Il tema della volontà introduce nell'azione politica un forte elemento soggettivo che si incarna in una concezione del partito come volontà politica organizzata. Lenin ha ideato questo partito nuovo, ha capito per primo che il partito e il suo leader sono i soli ad esprimere la volontà di un paese, dice L'S. Il partito si è fatto stato, strumento, ora nelle mani di Stalin, per dirigere dall'alto la rivoluzione. L'S cita Spengler senza nominarlo ma è perfettamente compreso da Mostovskoi e lo usa per sostenere l'identità tra i supposti nemici. Poi, afferma implacabile L'S, le nostre modalità operative sono come le vostre. Sono stati eliminati senza esitazione i nemici del popolo, cioè chi contrasta il disegno generale del partito, ad esempio Bukharin in Russia, Röhm in Germania, e milioni di persone appartenenti a certe categorie etniche, nazionali o razziali. La proprietà privata non esiste più in Russia, ma neanche in Germania, dove è lo Stato che elabora il piano produttivo e assegna agli industriali una percentuale, cioè paga loro lo stipendio. Anzi, continua inesorabile L'S, è Stalin che ha insegnato a Hitler il dirigismo nella produzione e la necessità di un'obbedienza totale, donde la nessuna esitazione nell'eliminare milioni di contadini, così come Hitler ha eliminato gli ebrei, in quanto nemici del socialismo nazionalista tedesco. È Lenin, insiste L'S, che dando vita all'internazionale comunista fonda in realtà il nazionalismo del ventesimo secolo. Ecco perché L'S chiama Mostovskoy maestro, perché membro del partito di uno dei due grandi rivoluzionari al mondo, il Führer e Stalin, la cui volontà ha generato il socialismo nazionalista dello Stato. Un'angoscia fortissima e via via crescente serra il cuore di Mostovskoy, che tuttavia si risente per l'appellativo di maestro, ma le parole di L'S suonano al suo orecchio, da prima temibili, poi spaventose. Due similitudini fotografano lo stato d'animo di Mostovskoy. All'inizio si sente come abbordato da un borseggiatore esperto su un trama affollato. Poi un pensiero lo fulmina. Forse proprio i suoi tormentosi dubbi, i dubbi che ha sempre represso, forse sono un seme di verità. Egli sembra di essere un malato di tumore, che evita di andare dal medico per non sentirsi dire ciò che teme di più. Sente che per sfuggire alla logica di L'S deve solo smettere di odiare Cernicove e Konicove. Ma così facendo rinnegherebbe tutta la sua vita spesa per gli ideali rivoluzionari. Dovrebbe prendere le distanze dal partito, dai Lager, dalla Lubianca. Dovrebbe prendere le distanze anche da Lenin. E Mostovskoy non può accettare questo. I dubbi non portano alla palude, come credeva un tempo, portano al precipizio. E come tutti i credenti alla fine è convinto che, sebbene inoppugnabilmente ci siano tante somiglianze nell'azione, tra nazismo e bolscevismo la differenza esiste e naturalmente è nel progetto del costruttore, nei suoi pensieri. Un po' come quegli inquisitori che si comportano come eretici, come gli eretici che combattono, ma che si giustificano, si giudicano diversi da quelli per l'origine e le finalità ovviamente sante del loro agire. Quando finalmente L'IS lo congeda promettendogli un altro colloquio che non avverrà mai, fuori nell'aria della notte Mostovskoy pensa se credessi in Dio direi che mi ha mandato quello spregevole interlocutore per punirmi dai miei dubbi, riconfermandosi così fedele al partito di cui è già vittima. Qualche tempo dopo incontra Zipo e apprende della fine di Ersov, che è eliminato dai suoi stessi compagni proprio con il mezzo che aveva immaginato e progettato lui stesso. Grazie ad un compagno cieco che lavora in amministrazione, la sua scheda è inserita in una lista di prigionieri da trasferire a Buchenwald. Ancora una volta il partito ha preso una decisione che lo addolora, ma Mostovskoy il vecchio bolshevico continua a non rinnegarlo il partito. Mi sottometto alla decisione comune, obbedisco al partito di cui sono membro, dice. E poco dopo anche lui viene eliminato in seguito alla dilazione di uno dei prigionieri sovietici che denuncia la rete di resistenza all'interno del campo. Il nome di Mostovskoy è in cima alla lista. Il delatore, probabilmente eliminato anche lui, resta sconosciuto. E così se Mikhail Sidorovic è riuscito ad attraversare indenne le purghe staliniane, a sopravvivere all'assedio di Leningrado, a mantenersi integro fino al lager tedesco, ecco che proprio lì non la scure nazista, ma la scure del partito inesorabile si abbatte anche su di lui, alla maggior gloria dell'opera di Lenin e di Stalin.